Buongiorno! Buongiorno a lei! Buongiorno a lei? No! Buongiorno a lei. Ah, buongiorno anche a lei. No, 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 buongiorno a lei. A lei? Sì, buongiorno a lei. Ok. No, ok, buongiorno a lei, a lei. Ho capito. Buongiorno a lei. No, buongiorno a lei, lei, lei. Ho capito. Buongiorno. Buongiorno a voi. No, buongiorno a voi, buongiorno a lui. Buongiorno a lui, a voi. No, buongiorno a voi, buongiorno a lui, lui, lui. Sì, buongiorno a me, buongiorno a me. Buongiorno a lui, a tutti. Quali tutti? Buongiorno a me, lei lo dica a me Vabbè, buongiorno a me Lo so, però lo dica a me Dica buongiorno a me Lo dica a lui, lo dica a lui Buongiorno a lui? Sì Devo dire buongiorno a lui Mi sta prendendo in giro? Ascolti, guardi me e dica buongiorno a me Buongiorno a me Mi sta prendendo in giro Lei mi sta prendendo in giro? Io No, lei, mi sta prendendo in giro lei Non so io, perché lo chiede a me? Lo chiede a lei Esatto, lo chiede a lei Io Sì, lei, lo chiede a lei Lo sta prendendo in giro? A chi? A lui? No! A chi dice? A lei! E perché guarda lei? Guardi lui, lo dica a lui Guardi me!